Buonasera cari telespettatori benvenuti a questo spazio di approfondimento questa sera tratteremo di un argomento estremamente caro a noi sia dal punto di vista geografico ma anche territoriale perché parliamo di biologico e biologico sapete che qui nella nostra provincia è nato negli anni 70 a pochi chilometri da qui a Isola del Piano e anche perché accanto a noi, alla nostra sede, ha luogo un'altra sede, la sede degli Amici di Suolo e Salute che è un organismo di controllo e certificazione biologica, il primo in Italia e tra i primi in Europa abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studio assieme a me questa sera il suo presidente Angelo Costa che saluto subito, benvenuto presidente, presidente Angelo Costa allora presidente partiamo dagli slogan perché gli slogan raccontano tante cose voi ne avete due particolarmente interessanti, il valore del cibo e la giusta visione capiamo cosa fate e chi siete abbiamo fatto per il cinquantennale, quindi 50 anni di vita, l'associazione Suolo e Salute è nata nel 69 e per il cinquantennale abbiamo fatto un talk show in cui è una serie di iniziative il mese scorso a Bologna e all'interno di questa iniziativa il professor Galimberti ha fatto una lezione magistrale in cui spiegava il cibo, quale metafora della vita alla base di questa impostazione c'era noi siamo ciò che mangiamo ecco che insomma è quanto mai veritiero allora noi siccome abbiamo, grazie a voi, un piccolo contributo di questa iniziativa che avete fatto magari ce la guardiamo insieme e poi al rientro commentiamo questo bel contenuto importante e interessante allora guardiamoci il contributo grazie a tutti grazie a tutti bene, presidente abbiamo visto una bellissima iniziativa, molto partecipata, insomma contenuti interessantissimi allora il valore del cibo abbiamo cercato di approfondire col contributo di molti interlocutori abbiamo cercato di approfondire un concetto che sta alla base un po' del modo di dire per quanto riguarda l'agricoltura biologica va bene tutto, ok è bello ma costa caro per fare una battuta non è il cibo biologico che costa caro, è il cibo convenzionale che costa troppo poco noi il cibo è alla base della vita, il cibo è la roba che ci fa vivere, il cibo è una roba che noi introduciamo nel nostro corpo tutti i giorni, più volte al giorno, del primo giorno della vita all'ultimo giorno della vita e spesso lo trattiamo come una merce qualsiasi, come un paio di scarpe o forse meno di un cellulare ecco quindi a partire da questa considerazione abbiamo approfondito ciò che caratterizza, ciò che differenzia il biologico dal resto la sostanza, per fare una estrema sintesi, è che mentre l'attività agricola e l'attività di produzione di cibo convenzionale esternalizza problemi, l'attività di coltivazione biologica interiorizza soluzioni lo traduco in termini un po' più semplici ed è produrre agricoltura con la chimica inquina, produrre e quindi crea problemi ambientali e quindi esternalizza i problemi ambientali ed altri produrre con la chimica crea problemi sulla salute delle persone e quindi esternalizza problemi per quanto riguarda la salute delle persone per quanto riguarda il biologico la internalizza nel senso che all'interno della vendita del prodotto della merce cibo biologico c'è anche la componente meno inquinamento, c'è anche la componente più salute e più sicurezza questa è stata la sintesi a cui, cioè come dire, gli approfondimenti hanno portato a questo tipo di considerazioni per quanto riguarda il cibo per la nostra specifica attività Presidente, questo ribaltamento di prospettiva, che non è il cibo biologico che costa caro ma è il cibo convenzionale che costa troppo poco, mi piace molto forse abitua a vedere in altra luce, in altra prospettiva quello che abbiamo nel carrello della spesa tutti i giorni però abbiamo parlato dei primi anni 70, voi siete nati nel 69, lì c'è stato tutto l'abbrivio però in 50 anni sono cambiate tante cose, in che cose soprattutto? In 50 anni sono cambiate un sacco di cose è cambiato l'atteggiamento nei confronti dell'agricoltura è cambiata la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali sono cambiati dei dogmi che sembravano insuperabili tipo la chimica risolve i problemi del mondo dalla coltivazione dei prodotti alimentari alla medicina adesso sembra che tutto questo sia un po' messo in discussione nel senso che la persona vive nella sua interezza è cambiata perché era in qualche modo ignorata dai tecnici all'origine è cambiata perché le università non prendevano in considerazione il biologico adesso c'è un grande fermento, c'è un grande approfondimento la comunità scientifica è interessata allo sviluppo di questa tipologia di produzione e in qualche modo rappresenta almeno per le nostre società rappresenta l'alternativa possibile credibile, attuabile dell'intera agricoltura il progetto oggi è un po' questo pensare non che a mantenere l'attuale o sviluppare l'agricoltura biologica ma a trasformare l'intera agricoltura italiana ed europea con tassi sempre più importanti di ecologia, di organico e quindi di meno chimica e quindi più biologica quindi più spazio, più terra diciamo così convertita al biologico più operatori e più anche consumatori quindi è una doppia via consumare biologico, acquistare biologico fa bene alle nostre aziende aiuta la riconversione delle aziende agricole ma fa anche bene a noi è una doppia strada quindi possiamo capire all'oggi visto che abbiamo parlato di quello che è stata l'evoluzione che cosa rappresenta il biologico in questo momento nella nostra attualità noi abbiamo chiamato la giusta visione per tornare un attimo al passato noi abbiamo chiamato la giusta visione quello che è stato l'utopia, l'idea di un gruppo di persone di professori universitari di studiosi, di medici che negli anni 70 quando il mondo andava in un'altra direzione quando le campagne venivano abbandonate quando fare l'agricoltore non era bello non aveva appeal non aveva attrattiva quando l'urbanizzazione di massa era un fatto evidente quando l'industrializzazione, eccetera in quella fase che un gruppo di persone si siano messe a immaginare un modello agricolo diverso è importante abbiamo voluto riconoscere insieme a tutta l'attuale struttura nostra questo ha questa storia e il valore di questa storia cosa rappresenta il bio oggi? rappresenta migliaia di imprese agricole migliaia di imprese agricole produttive rappresenta un approccio al mercato rappresenta un approccio al mercato diverso specialmente diretto perché serve alla sensibilizzazione del consumatore di filiera corta rappresenta l'attenzione alle aree marginali o ha rappresentato soprattutto nel passato l'attenzione alle aree marginali perché la conversione da agricoltura convenzionale da agricoltura bio nelle aree marginali era più urgente perché o si inventavano delle soluzioni che portavano a qualche forma di reddito o l'alternativa era l'abbandono rappresenta la qualità dei prodotti rappresenta la qualità della vita ormai sono milioni gli italiani che consumano bio sono milioni gli europei che consumano bio e è vero per tornare alla battuta iniziale che esiste un differenziale sul prezzo ma ripeto stiamo parlando di cibo ciò che mettiamo dentro di noi tutti i giorni ma è anche importante e qui entriamo in un altro ambito ovvero sia le garanzie la certezza sapere che cosa stiamo comprando e se quello che stiamo comprando corrisponde a quello che noi ci aspettiamo che mettiamo nel carrello della spesa e qui entrate un po' in gioco voi quindi che cosa rappresentate insomma Sole Salute qual è il suo il suo moment il suo core business diciamo sì noi siamo passati da da prima associazione da primo momento organizzativo del movimento biologico italiano poi negli anni negli anni 80 c'è stata una variazione adesso non ci occupiamo più della filiera della filiera agricola nel suo insieme sono altri soggetti soggetti che si occupano di questo noi ci occupiamo dello specifico controllo e certificazione quindi della una come dire un'attività che sta a garanzia del mercato del consumatore un'attività che che vede che vede la società impegnata con centinaia di tecnici che operano su tutto il territorio nazionale stiamo parlando di 350 di 350 di 350 dipendenti e collaboratori la stragrande maggioranza sono tecnici tanto per fare un esempio sono tecnici giovani la media dei nostri dipendenti e collaboratori è di 41 42 anni sono quasi tutti laureati quelli che non sono laureati sono diplomati quindi stiamo parlando anche di una comunità importante e qualificata e l'attività che fanno è quello di come dire sottoporre tutti i soggetti che intendono commercializzare prodotto biologico di sottoporre questi ad un piano di controllo che sulla base di alcuni principi di rischiosità di dimensione di prodotto trattato eccetera si viene personalizzato un piano di verifica e alla fine di quel piano di verifica viene in qualche modo rilasciata un'abilitazione a poter dichiarare biologico quello che vendono quello che commercializzano ovviamente se ci sono tutte le condizioni se non ci sono le condizioni che il prodotto non potrà essere certificato non potrà essere immesso sul mercato insomma quindi avere questa certificazione per il consumatore è una garanzia è una garanzia di qualità e soprattutto che tutte le cose vengono fatte anche perché in questo settore abbiamo avuto episodi di cronaca abbastanza penalizzanti insomma quindi spesso il biologico viene usato come front e invece poi in realtà biologico non c'è quindi bisogna essere molto attenti il consumatore deve prestare molta attenzione in questo secondo lei Presidente è chiaro che ci sono stati problemi di come dire truffe frodi commerciali e robe di questa natura c'è un primo elemento secondo me di carattere generale che è questo quando il biologico cresce per quanto riguarda il consumo a doppia cifra da 10 15 anni in questa parte la produzione non cresce altrettanto quindi quando esiste un mercato squilibrato tra la domanda e l'offerta in modo evidente i rischi sono maggiori e quindi questo è come dire un problema di contorno ma che esiste con cui tutti devono fare i conti il secondo è che probabilmente c'è qualche margine di guadagno in più e quindi è un altro stimolo un altro sicuramente stimolo noi operiamo come organismo di certificazione su delega del ministero le nostre attività sono controllate dalla repressione fra le CQ RF e se noi valutiamo i dati se noi valutiamo i dati di non conformità degli schemi di certificazione di alcuni schemi di certificazioni similari se vogliamo le DOP le GP piuttosto che il biologico la percentuale di le percentuali di non conformità individuate nelle DOP e nelle GP sono notevolmente superiori a quelle individuate nel biologico probabilmente probabilmente fa più come dire fa più prima pagina uno scandalo sul biologico ma nella sostanza la maggior parte delle anomalie non avvengono nel biologico anche se sicuramente non bisogna abbassare la guardia e vanno e vanno e sono fenomeni che vanno controllati che vanno contrastati ma l'organismo come il vostro è lì proprio anche per questo per una garanzia per i nostri consumatori allora come sempre al di là e in primis c'è un'idea alla base di tutto c'è un'idea le idee sono quelle che hanno spostato il mondo spesso e volentieri hanno dato il via a fenomeni di massa infiniti quindi le chiedo proprio la forza dell'idea questa forza che in questo pensiero c'era e che ci ha portato fino ad oggi come la possiamo estrinsecare come la possiamo spiegare noi abbiamo voluto questa iniziativa organizzata in questo modo nel senso che abbiamo fatto dei video emozionali abbiamo chiamato Ivano Mariscotti che è un attore bolognese a leggere una favola sull'agricoltura biologica e sull'evoluzione dell'agricoltura biologica ovviamente prodomo nostra e quindi anche con la parte riferita a suole salute è evidente abbiamo voluto organizzare un evento importante di approfondimento ma tutto sommato leggero e piacevole ma l'obiettivo era quello di sostanzialmente coinvolgere la nostra comunità di tecnici di quello che dicevo prima cioè di 350 persone che hanno che hanno un'età media di 40 anni e cui molti di essi sono a qualche anno dalla laurea eccetera che hanno vissuto del biologico solo la parte solo la parte come dire positiva di crescita di come dire tutti i valori positivi e non hanno vissuto la parte eroica non hanno vissuto la parte difficile dell'emozionale forse sì la parte per cui era quello di condividere in occasione dei 50 anni un bel traguardo per tutti anche per le imprese non solo per le persone quindi abbiamo voluto condividere con tutti questa esperienza quindi esiste il futuro esiste una grande possibilità ancora per noi di crescita nonostante siamo il primo organismo di certificazione in Italia e esiste però non dimentichiamoci di quello che c'è stato dietro a tutto questo allora abbiamo un'altra clip che ci espone con un'infografica molto chiara i valori i pesi le misure la guardiamo e poi rientriamo di nuovo con il precedente un'infografica un'infografica di un'infografica 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 Presidente, insomma abbiamo visto numeri di grande spessore, importanti, insomma alle volte i numeri sono un po' freddi però danno una bella fotografia Sì, sì, è chiaro che io sono contento orgoglioso della struttura che rappresento adesso poi le percentuali sono un po' fredde però il 25% degli operatori biologici italiani sono controllati da Sole Salute il 28-30% delle superfici altrettanto sono centinaia di dipendenti e collaboratori che lavorano per la società sono 30.000 verifiche ispettive che facciamo ogni anno sugli operatori biologici sono migliaia di prelievi di campione per analizzare eventuali residui, rischi ci sono un'attività consistente anche dal punto di vista del management non può essere più affrontata come era un'aziendina perché è un'impresa che ha 18 uffici in Italia che ha 10 milioni di fatturato e quindi insomma è un'impresa a tutti gli effetti per cui questo è sicuramente positivo ma non dimentichiamoci mai da dove siamo partiti come sempre il Presidente fa riferimento a un saggio detto per guardare dove dobbiamo andare è meglio che capiamo da dove veniamo e questa è la loro storia 50 anni di storia di suolo e salute che certifica e controlla il biologico in Italia su grandissimi numeri come abbiamo visto è il primo organismo italiano e tra i primi in Europa ci sono altri due organismi uno inglese e uno francese che svolgono più o meno lo stesso vostro lavoro e quindi siete veramente meno che sul palmo della mano però sono la nostra garanzia sono dal punto di vista del consumatore il meglio che noi ci possiamo augurare di avere quindi io ringrazio il Presidente Angelo Costa innanzitutto per il lavoro che svolge e tutto quello che avete fatto in 50 anni di storia e soprattutto per essere una delle sentinelle della nostra salute per cui questo alla fine voi siete quindi grazie e grazie anche a voi per averci seguito in questa puntata così particolarmente interessante dove abbiamo affrontato il tema del biologico da un punto di vista e da una visuale molto interessante quella che sta dalla parte del consumatore delle aziende grazie Presidente grazie a lei e a tutti quanti e noi ci risentiamo ai prossimi approfondimenti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti